Brignone è finita, ce l'avete fatta, è prima categoria. Prima categoria, sì, finalmente. Era l'ora, siamo molto contenti, molto contenti. Dopo i play-off sono stati duri, però siamo contenti di aver vinto perché ci credevamo fin dall'inizio. Senti, quanti anni di vita hai perso su quell'ultimo corso? Credo che ho perso 20 anni di vita, quelli che ho, no, veramente. Mi è passata la stagione, però è andata bene, l'ho presa e adesso si va a festeggiare. Hai aiutato anche la traversa lì. Hai aiutato anche la traversa, gli pagherò da bere pure lei. Beh, anche i compagni a quel punto. Dai, complimenti. Grazie.